Musica Ci troviamo in Abi per il forum CSR 2015. Nella tavola rotonda di oggi, inclusione finanziaria, prospettive di sviluppo, interverrà il segretario generale della Wilka, Massimo Masi, il moderatore sarà Giancarlo Durante, direttore centrale e responsabile direzione sindacale del lavoro di Abi. Inoltre, parteciperanno Maria Assunta Rosa, vice prefetto Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, Giovanna Boggio Robutti, direttore generale Fedus, Daniele Frigeri, direttore CESPI e direttore dell'Osservatorio Nazionale sull'inclusione finanziaria dei migranti, Paola Giucca, direttore provinciale Servizio Supervisione Mercati e Sistemi dei Pagamenti Banca d'Italia. Sentiamo ora l'intervento del segretario generale della Wilka, Massimo Masi. Grazie Giancarlo, buongiorno a tutti. Quando Giancarlo mi ha invitato a questo confronto, devo dire la verità che ero abbastanza settico, perché il sindacato su questa materia ha qualche passo indietro rispetto alla situazione generale. Io voglio portare oggi l'esperienza che il mio sindacato ha fatto, perché abbiamo fatto un'esperienza sul campo di educazione finanziaria, sul campo direttamente per quanto riguarda l'istruzione, i corsi ai pensionati e per quanto riguarda il passaggio sui migranti. Sono esperienze, credo, importanti e che abbiamo presentato due anni fa al Presidente Patuelli, perché naturalmente è un'iniziativa, quella della Wilka, assieme alla Wilka, credo abbia avuto un buon successo. credo inoltre che il sindacato sia sempre stato oggetto di maggiori portatori di conoscenza e quindi quando noi abbiamo cominciato a fare queste esperienze abbiamo avuto una sfida, certamente abbiamo avuto sfidare un processo che probabilmente era ai più non noto. Quindi io credo che il ruolo del sindacato nella storia del nostro Paese sia proprio quella, quella di favorire il processo di integrazione delle persone e di sviluppo della società e di quelli che abitano nella nostra nazione e cioè quella di armonizzare la nostra società italiana che è così complessa ma così ancora diversa rispetto agli altri Paesi. Quindi per noi promuovere l'inclusione finanziaria ha significato rimuovere quell'ostacolo che impedisse, e l'abbiamo toccato con mano, individui, imprese e organizzazioni di accedere ai servizi finanziari, la cui disponibilità sancise per molti l'uscita dall'ombra dell'illegalità e dalla precarietà che bloccano la crescita economica e l'inclusione sociale, negando per una vita migliore quel progresso materiale e spirituale che la società che la carta costituzionale nostra garantisse. Noi siamo partiti, e sono i dati di questi giorni, e quindi ringrazio la professoressa per i dati che riportava, i dati di questi giorni ci parlano che i test effettuati nell'università italiana, c'è una, soltanto il 10% degli studenti italiani è capace di risolvere problemi finanziari complessi, e solo il 15% degli alunni riesce a prendere decisioni finanziarie semplici. Quindi c'è un 75% di studenti universitari che arranca in questo oscurantismo finanziario. E questa ignoranza è un problema che noi abbiamo riscontrato e che bisogna superare perché altrimenti corriamo dei grossi rischi. Ecco perché credo che tutto quello che è successo in questi anni, di problemi, è uno dei maggiori problemi che noi abbiamo avuto e che abbiamo aiutato come sindacati di categoria rispetto alla UIL, è proprio stato quello che in alcuni amministratori di enti pubblici, ma anche amministratori privati, a fronte di prodotti finanziari che non conoscevano, che non capivano l'importanza, si sono ritrovati poi in situazioni drammatiche e hanno avuto dei riflessi occupazionali questi. Quando quindi si vendono prodotti di certi tipi, quando si vendono prodotti che non sono conoscenza, di cui non siamo conoscenza, di cui non sappiamo come interagire, poi questi possono portare, e abbiamo visto, disastri economici che hanno riflessi diretti sulla popolazione e sugli occupati. E questa è stata una delle cose che noi abbiamo dovuto spiegare in giro come affrontare e come combattere questi aspetti. Io li chiamo errori matematici di alcune aziende, ma lo metto a farvi in virgolette per ovvi motivi. Ecco perché noi come sindacato dei bancari e degli assicurativi, proprio per portare a maggiore conoscenza questi problemi, abbiamo fatto questi processi che sono andati sugli immigrati e sui cittadini, soprattutto della fascia di età più alta. Abbiamo fatto queste numerosissime riunioni nelle camere sindacali alla presenza della UIL e dell'Aldoc, che è l'associazione di consumatori della UIL. E abbiamo spiegato quali sono i prodotti finanziari che oggi interessano di più la popolazione, ma anche abbiamo ricepito quali sono i problemi che vengono da loro e quali sono i problemi, le difficoltà di comunicazione che ci sono fra i cittadini e le banche, fra i cittadini e gli addetti e gli sportelli, fra i cittadini e coloro che vendono prodotti finanziari. Ecco perché la trasparenza, secondo me, è importante. La trasparenza diventa l'apporto principale del nostro mestiere di bancario. Abbiamo stampato in numerosissime copie un piccolo manuale, che abbiamo distribuito ai pensionati e ai migranti, proprio per spiegare quali sono le operazioni più semplici. Perché oggi, nella riprova, il pensionato che riscuote mille euro di pensione è obbligato ad aprire il conto corrente e quindi ha bisogno di alcune informazioni, perché è vero, non basta la tessera bancomata, ma bisogna anche insegnare come affrontare i problemi derivanti dalla finanza. E quindi, anche perché oggi siamo in differente a un momento di grande cambiamento, di grande rivoluzione sotto il punto di vista finanziario, Allora, siccome il mercato ha le sue regole, ma io ribadisco che il sindacato non è contro il mercato. Il sindacato è contro il mercato che non tutela i più deboli, che non tutela le fasce che hanno più bisogno di essere tutelati, che hanno più bisogno di essere informati. Ecco perché io, che sono un laico, molto laico, mi riconosco nelle posizioni di Papa Francesco, nei cicli laudati sì, perché quando si parla di finanza e di finanza etica, io riconosco questo. Poi è chiaro, è evidente che c'è anche la finanza speculativa, ma un conto è la finanza che va rivolta a certe fasce di cittadinanza, altra è quella della speculazione. Ecco perché oggi, e sono qui a dirlo in questa sede, noi siamo favorivolissimi a tutti gli accordi che abbiamo fatto nelle banche per una finanza più etica, per il controllo dei budget, della vendita dei prodotti, e per un controllo maggiore rispetto a come si comporta e come si affronta il problema della finanza. Ecco perché credo che l'inclusione finanziaria sia importante e che chi rimane escluso dalla possibilità di usare prodotti finanziari è escluso da una parte della vita di questa società. E l'altro aspetto che veramente mi ha toccato con grande interesse è stato l'uso degli immigrati del credito. Io sono rimasto sorpreso di vedere come negli immigrati si usa moltissimo lo smartphone, la banca, la mobile, la banca elettronica, ed è superiore agli stessi italiani che usano la banca tecnologica. Allora anche su questo noi abbiamo fatto un progetto, un ascolto, perché il mondo che noi viviamo da fuori di qui è diverso. Il mondo delle camere sindacali, degli immigrati che vengono a chiedere informazioni, vengono a chiedere i loro diritti rispetto anche al mondo del lavoro, al mondo anche di come a volte sbarcare il lunario, è diverso rispetto a quello che noi vediamo in queste sale. Allora credo che su questo sia stato importante il rapporto che noi abbiamo avuto, per poter spiegare quali sono le differenze, perché oggi esiste una forte differenza, ecco perché il mio ufficio studi si è occupato di creare anche e di illustrare qual è la differenza fra la banca nostra occidentale e quel progetto della banca islamica, che è completamente diverso rispetto al modello di banca che esiste. Ecco perché allora io credo che, e chiudo, sia importante arrivare all'aspetto dell'inclusione finanziaria. Mi sono chiesto, e chiudo, all'inizio perché il sindacato parla di inclusione finanziaria e quale apporto posso aver portato in questo dibattito. Io credo che la risposta, lo ripeto, l'ho ottenuta frequentando questi seminari, questi incontri che ho avuto nelle camere sindacali, che ho sentito i disagi delle persone. E i disagi sono fra coloro che hanno affrontato in modo sbagliato. Io sabato sarò a Ferrara, alla Casa dei Famili di Ferrara, perché ci sono disagi, ci sono problemi sugli azionisti, sugli obbligazionisti e vorrei portare anche là una parola di conforto cercando proprio di trovare quale sono le risoluzioni perché questi tipi di non eticità di comportamenti di alcuni comportano poi danni irreversibili ad altri. Non dobbiamo dimenticarci che chi ha portato la situazione in questo modo poi ha portato a completo zeramento degli investimenti, del TFR, di molte persone. Ecco perché io credo che l'informazione, le conoscenze, gli scambi culturali sulla finanza, che non è più una cosa di pochi, ma deve essere una cosa di tutti, perché altrimenti davvero si corre il rischio di limitare le conoscenze, ma di fare grandi errori e di fare grandi disastri. Ecco perché io sono consapevole e sono d'accordissimo che sono tutte le iniziative che servono a informare i cittadini, i migranti, tutti coloro che hanno bisogno di affrontare il problema della finanza. Ecco questo è il nostro scopo, ci abbiamo approvato, credo che al di là di fare il sindacato nel modo tradizionale, la UIL è il sindacato dei cittadini, noi affrontiamo il problema a 360 gradi, perché non soltanto vogliamo difendere i lavoratori bancari, ma vogliamo anche difendere coloro che rappresentano la cittadinanza di questo Paese. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS